Il gruppo sta aumentando sia come quantità, ovvero come iscrizioni, come partecipazione da parte dei bambini e delle ragazze e sia come qualità. Abbiamo la fortuna di poter affrontare il mini volley con diversi istruttori in modo tale da dare ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con il loro livello in quel momento. In questo modo il bambino si sente seguito da un primo livello più ludico sportivo fino a un livello dove affrontiamo con più serietà il discorso dei fondamentali e del gioco dal punto di vista pallavolistico. Dopo un percorso iniziato a settembre e in febbraio siamo pronti per far provare alle ragazze la gioia di fare delle partite che diventano più dei momenti aggregativi, dei momenti in cui si cerca di dare come obiettivo il divertimento, ma c'è anche quella piccola tentativa di far vedere alle ragazze che seguendo gli allenamenti, stando tutti insieme, lavorando insieme in settimana, si arriva a questi concentramenti domenicali nella condizione di poter giocare, divertirsi e quindi raggiungere sia l'obiettivo di dare ai ragazzi un momento di svago e sia quello di insegnare uno sport molto interessante come la pallavolo. L'offerta è aperta a tutti, sia ai ragazzi che alle ragazze. Chiaramente i ragazzi a questa età sono un po' più affascinati e portati ad affrontare lo sport in giochi quali magari il calcio, in giochi che sono a loro un po' più congeniali, però siamo contenti perché abbiamo nel gruppo dell'Under 13 diversi ragazzi e una volta entrati nel meccanismo della pallavolo provano grande soddisfazione e grande divertimento. Sono ragazze che si incontrano e si conoscono all'interno dei vari plessi scolastici e quindi per loro questo diventa un ulteriore momento ludico ricreativo. Le famiglie sono molto contente perché vedono i bambini seguiti con serietà, sono contenti perché i bambini vanno a casa dopo essersi divertiti e quindi è sicuramente per loro un ulteriore momento di socializzazione e di gioco.